buon di da carmen il titolo banale di un componimento che vorrei sia giudicato da altri perché io posso solo minimamente spiegare dentro il non senso velato nel profondo è un sole che acceca o molto poco di luce meglio volare tra nuvole di morbide sembianze come i cuscini di piume o soffice penna panna montata e cime fredde battute a neve come albume d'uovo su una torta di amabile aspetto del palato gentile di letto o da aromi di foreste profumata che annaspare a lungo sudare nelle nella calura del suo raggio tanto intenso ma io il mite maggio e pioggia fine arcobaleni il troppo veleni e noi arreca così il fiocco lumeggiare quindi andare in pace fieri lieti restare prima che inquieti turbati e evitare gli eccessi il sussclassare quietamente di venire prima che in una che in tempesta che in una tempesta negare da spirale di fuoco affamato di maneggesta in agonia feroce morire meglio in un fiato sereno aspirare meglio ad un grido atroce e sereno meglio il sereno vabbè il titolo è banale ovviamente tutti noi preferiremmo il sereno a una vita inquieta sempre turbata piena di problemi di angoscia di inquietudini ma dove vi qui c'è un c'è un gioco tra quello che il il c'è una sigaretta perché questo non è un gioco questo è un momento di pausa riflessiva per sintetizzare compendiare questo lungo dire allora quando io parlo di dentro in un senso velato nel profondo c'è un sole che acceca molto poco di luce parlo di contrasti di contraddizioni e quindi è meglio ritrovarsi tra nuvole di morbide sembianza di panna montata cose soffici delicate piacevoli gradevoli al palato come la neve soffice morbida o che appare morbida sembianza di morbide di morbida fattura o come la neve come oppure delicate al palato o all'odore come l'albume sulle torte preggiate anche dal dalla da rome di foresta quindi anche da cose particolari che annaspare a lungo restare nella calura del suo raggio quindi il sole stesso noi ci possiamo il sole qualsiasi cosa c'è lui dio stesso non significa altro che etimologicamente colui che brilla colui che illumina anche esso ci può abbagliare anche esso ci può che non conosciamo in effetti dalla mia visione agnostica io non conosco questo dio se non per sentito leggere scrivere o dire e allora meglio che di tutto questo che caccicante abbagliante l'u lume lume anche quando poco riluce abbagliante e accecante meglio meglio gustare le piccole cose piacevoli che annaspare a lungo sudare che faticare duramente nella calura nella calura del suo raggio tanto intenso meglio il mite maggio quindi di tutto questo ovviamente io faccio un paragone tra il clima il clima il tempo quello che è e lo stato interiore questo questo volevo arrivare meglio la mitezza vivere con mitezza d'animo meglio il mite maggio e meglio il pioggia fine arcobaleni è ciò che ci tocca suavemente leggermente senza farci male è meglio i colori di dentro che possiamo esprimere fuori invece il troppo quindi la mitezza quella medietà aurea quella medio aurea che menzionando dai classici latini perché è aurea perché quella veramente la medietà la dolcezza la mitezza soprattutto delle cose ci dà non ci dà delle cose velenose quindi un equilibrio normale naturale perché il troppo l'eccesso veleni e noi arrecca ci intossica ci fa male ci ci da noi e quindi ci da a disturbi ci disturba c da avere proprio patologie ci arrecca tale cose e così anche il fiocco lumeggiare ugualmente come qualcosa che è roboante e abbagliante ugualmente il fiocco lumeggiare il troppo poco e allora quindi andare in pace fieri e letti di essere perché prima che inquieti e turbati restare evitare gli eccessi sul calzare ci troviamo noi negli eccessi esterni interiori stati interiori particolari rabbiosi momenti emotivi intensi o di qualsunque genere e allora cosa cosa resta da fare altro che quietamente divenire perché senza uno stato interiore quanto più possibile è acquisito in noi nonostante tutte le tragedie che ci sono che in tempesta a negare qui non voglio voglio proprio dire che il fattore interiore perché non mi piace fare allusioni a cose che sono veramente molto tragiche e brutte che accadono che in tempesta qua parlo delle nostre tempeste interiori quindi oggi parlo di interiorità perché tutto quello che noi vediamo è molto molto tutto non possiamo guardare il telegiornale dalla mattina alla sera mezzogiorno a luna all'ora di pausa all'ora di cena che è ancora più più pesante quando si ritorna al lavoro per chi lavora fino a tardi guardiamo tutto ciò è tutto quello che è male brutto ora ci sarà un'altra epidemia di covide sempre è tutto peggio che peggio e allora in assi restare è ovvio che meglio in un fiato sereno aspirare meglio di un grido atroce il sereno è meglio essere allora questo tutto questo che accade è talmente ovvio che è meglio al sereno e noi dobbiamo restare quanto più centrati in noi non vuol dire appesi a tutte le regole perché le regole sono così contrastanti che a volte non sappiamo quale e tante che le volte non sappiamo quali rispettare allora dobbiamo stare centrati in noi ora che ma casualmente diciamo così ci sarà una nuova epidemia ci hanno fatto tornare la mascherina ci sarà vabbè è un caso così sembra che ci sia una nuova in data di di covide come dice l'organizzazione mondiale della sanità ci rimetteremo questa cavolo di mascherina resteremo tutti chiusi in casa saremo sereni io voglio dire a tutti ma mi auguro di sì oggi affaceremo alla finestra come nevrotici cantando e qualcuno che passerà per strada non ci passerà per strada ritorneremo chiusi ma questo dispiace soprattutto per le per le nuove generazioni che sono riuscite un minimo a ritrovare io li ho visti per strada i ragazzi ancora stare insieme ebbè molto spiacevole saluto tutti augurandoci il meglio e forza a tutti quanti forza forza l'amore forza la vita forza la salute forza a tutti e in particolare oggi e in questi giorni e tutti i santi giorni